buongiorno e buona domenica a tutti voi eccoci di nuovo insieme per fare chiarezza su tutti i pagamenti che ripartiranno da domani per tutti i pagamenti che dovranno arrivare per le ultime novità da parte dell'istituto inglese ma come sempre prima di andare avanti mi raccomando mettete subito un bel like partiamo subito dai pagamenti che ripartiranno da domani lunedì 18 novembre teniamo le ricariche straordinarie per l'assegno di inclusione adi ricordandovi ricariche straordinarie riferite a chi prende la prima volta il sussidio e alle famiglie che stanno ricevendo pagamenti per arretrati sempre da domani lunedì 18 novembre riprenderanno i pagamenti per la disoccupazione della naspi e come già detto tante volte andranno avanti per tutto il mese di novembre ancora pagamenti per il bonus il pfx bonus renzi da 100 euro o meglio conosciuto come trattamento integrativo sulla naspi sempre da domani ripartiranno nuovamente i pagamenti in merito al bonus asili nido ancora ricariche per la carta acquisto social card da 80 euro bimestrali a completamento dell'annualità 2024 per quanto riguarda invece il pagamento del bonus sfl da 350 euro purtroppo come già detto imps slitta i pagamenti straordinari del 15 al 20 di novembre proseguiranno ovviamente per tutto il mese anche i pagamenti per l'assegno unico universale perché le date 18 19 20 fino a pagare al 30 di novembre poi teniamo le ricariche ordinarie per l'assegno di inclusione adi e quelle per il bonus sfl da 350 euro sempre tra il 26 e il 27 ricordandovi che purtroppo sono date indicative in quanto l'istituto inps non ha ufficializzato le date per la seconda semestralità arriviamo a conclusione perché dal 2 dicembre inizieranno i pagamenti per le pensioni di dicembre più la tredicesima a coloro che la percepiscono e ricordo ancora una volta che la tredicesima mensilità non spetta sull'indennità di accompagnamento e sull'indennità di frequenza pagamenti come già detto prima a partire dal 2 mentre per il ritiro in contanti allo sportello ci sarà il solito calendario in ordine alfabetico e si parte dalla lettera a alla lettera c questo era l'ultimo avviso mi raccomando condividete fate girare e se ancora non siete iscritti alla pagina o al canale fatelo è utile e gratis e serve soprattutto a voi per essere informati ed aggiornati su tutto ciò che vi spetta di diritto grazie a tutti buona domenica